Lei prima ha parlato della libertà di mentire come parte della libertà di espressione e volevo chiederle quindi che pesa di posizione bisogna fare nei confronti di questo modo di fare informazione perché da una parte non possiamo mettere tutte le opinioni sullo stesso piano naturalmente però dall'altra parte ogni volta che si cerca di imporre una certa verità si rischia poi di scadere nell'autoritarismo e nella censura come ha detto anche lei e quindi dove sta la linea che separa quello su cui possiamo condividere e invece la censura e come prendere posizione nei confronti di questo modo di fare informazione? Dobbiamo navigare quello spazio molto importante tra evitare il dogmatismo e quindi evitare di prendere posizione dicendo la verità è assolutamente questa ed è indiscutibile perché questa cosa nella scienza non esiste la scienza per definizione è qualcosa dove noi cerchiamo di approssimare la verità e quindi possiamo soltanto dire sulla base dell'evidenza scientifica degli esperimenti eccetera eccetera siamo ragionevolmente convinti che questa cosa sia vera però questa può essere falsificata un anno dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo e l'opposto invece è che è il totale relativismo dire allora non esiste nessuna verità, allora non esiste nessuna conoscenza Bertrand Nasser faceva proprio il parallelo tra la scienza e la democrazia diceva che nella democrazia dobbiamo riuscire a navigare questo campo di conoscenza probabilistica in certi casi è molto probabile, è quasi certo, in altri casi è probabile, in altri casi è incerto che una certa cosa sia vera e su questo terreno confrontarci grazie a tutti